Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Stadionews Calcio e Caffè. L'immediato post partita, l'indomani della partita tra Napoli e Palermo, partita amara per il rosa, una sconfitta tutto sommato meritata per quanto visto sul campo del San Paolo un 2-0 che non ammette repliche per la squadra di Giuseppe Iachini, uscita sconfitta da Napoli contro un Napoli che continua a viaggiare verso le zone alte della classifica. Napoli che si conferma secondo in graduatorio alle spalle della Roma che ha vinto ieri sera nella sfida in casa contro l'Udinese. Vedremo questo e tanto altro nella puntata di oggi per quel che riguarda l'undicesima giornata di campionato che si è disputata ieri sera, il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Andremo a vederla con i titoli dei giornali, dei quotidiani sportivi, delle prime pagine e anche dei quotidiani siciliani che riguarderanno ovviamente la partita del Palermo. E non solo, partiamo con la Gazzetta dello Sport che ovviamente dedica la propria prima pagina a quella che è la risalita della Roma. Giallorossi in vetta a più 11 sulla Juventus, a più 11 sui bianconeri. Juventus che ha perso nuovamente sconfitta in casa del Sassuolo. Sassuolo altra squadra in formissima, altra squadra che si sta confermando nelle zone di alta classifica. Vediamo anche in taglio alto Napoli e Fiorentina non perdonano ovviamente il riferimento alla partita che il Napoli ha vinto ieri sera contro il Palermo. Vediamo un 2-0 con le reti di Higuain e Mertens che hanno steso la squadra di Iachini, Iachini di cui leggeremo dopo le parole in sala stampa nel dopogara del San Paolo. Vediamo anche i risultati e la classifica per quel che riguarda l'ultima giornata della Serie A, sempre dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Frosinone scatto salvezza, Toro e Genoa festival del gol, ricordiamo ovviamente l'anticipo, Bologna-Inter terminato con il risultato di 0-1 a favore di Nerazzurri. Dopodiché le partite di ieri, Atalanta-Lazio 2-1, Frosinone-Carpi 2-1, Milan-Chievo 1-0, Napoli-Palermo 2-0, Romudinese 3-1, Sassuolo-Juventus 1-0, Torino-Genoa 3-3, Verona-Fiorentina 0-2. E infine chiuderemo il programma la partita di questa sera tra Sampdoria e Empoli alle 20.45, la classifica inoltre vediamo. Roma prima a 23 seguita dal terzetto formato da Napoli, Fiorentina e Inter a quota 21. Il Palermo resta nella metà destra della classifica con 11 punti appagliati insieme al Genoa e all'Udinese, in attesa ovviamente di sapere cosa succederà questa sera nella sfida delle 20.45 tra Sampdoria ed Empoli. Queste le partite dell'undicesima giornata del turno infrasettimanale di campionato disputato tra ieri sera e l'altro ieri per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Passiamo invece al Corriere dello Sport che titola invece sul Milan, oltre che sulla Juventus. Milan salito in classifica grazie alla vittoria ottenuta nella serata di ieri contro il Chievo Verona. Un gol di Antonelli che permette ai rossoneri di superare il Chievo, mentre Allegri cade col Sassuolo e protesta. Una partita che è stata segnata da un arbitraggio non proprio perfetto, quello di Gervasoni, nella sfida del Mappei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Juventus in taglio alto. Pagina dedicata al Palermo. Troppo Higuain, il Palermo cade ovviamente titolo sulla prova mostruosa dell'attaccante argentino del Napoli che ha steso con un gol superlativo il Palermo, un ziluro da fuori aria che non ha lasciato scampo a Sorrentino per il gol del momentaneo 1-0. Bologna a Donadoni e sollerato degli Rossi, questo per quanto riguarda le altre notizie dalla Serie A. è saltata la panchina dell'ez allenatore del Palermo in quel di Bologna, dunque cambio della guardia per una delle neopromosse. Bologna che sta rischiando dopo un inizio difficile di campionato e prova a risalire con Donadoni in panchina. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport, la prima pagina dei quotidiani nazionali. Passiamo invece al giornale di Sicilia, prima pagina ovviamente dedicata anche al Palermo. Stop Palermo fa festa il Napoli, leggiamo nella prima pagina del quotidiano siciliano. Brutta sconfitta al San Paolo. Gli azzurri vincono con le reti di Mertens e Higuain, questo per la prima pagina. Mentre entrando dentro al giornale vediamo la prima pagina sportiva. Tanto Napoli, poco Palermo. L'articolo di Carlo Brandaleones, la cronaca della partita, terminata 2-0 per il Napoli. Tra le curiosità troviamo anche un pezzo di Salvatore Loiacono. Sorrentino fa 500 tra i pali, ma la festa è rovinata ovviamente. Pezzo dedicato alla 500esima partita tra i professionisti. Dal capitano del Palermo, che però non è riuscito a onorare questo traguardo con un risultato positivo sul campo difficile del San Paolo di Napoli. Dalla cronaca della partita, che ovviamente sappiamo tutti, un 2-0 senza discussioni in favore del Napoli. Passiamo alle pagelle della partita che ci propone il giornale di Sicilia, sempre a firma Carlo Brandaleone. Vasquez ci prova, gira isolato questo il titolo dato alle pagelle in cui Vasquez è uno dei pochi sopra la sufficienza. 6,5 per il trequartista Italo-Argentino. Migliore in campo per il Palermo-Sorrentino. 7 in pagella per il portiere Rosanero, subito decisivo sul colpo di testa di Higuain. Però nonostante ciò non è riuscito a mantenere la porta inviolata. 5,5 a Giuseppe Iachini, ripropone il consueto modulo del 3-5-2, ma la squadra non produce l'intensità agonistica che sarebbe servita. Tra i positivi troviamo anche il trio difensivo, nonostante tutto Struna-Gonzale-Seangelcovic, un 6 a testa per tutti e tre. E Girardino, anche lui sufficiente per Carlo Brandaleone del giornale di Sicilia. 6 in pagella per l'attaccante che non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra a lungo isolato tra Cirices e Albiol nella difesa del Napoli. Per quanto riguarda il Napoli, invece, Iguain è una vera furia. Caglie con grigio, troviamo voti tutti sopra la sufficienza, escluso appunto l'esterno spagnolo che prende 5,5 per Iguain, un 7,5, tutto meritato. Una furia il commento del giornale di Sicilia di oggi. Queste le pagelle dunque del giornale di Sicilia che possiamo commentare anche con un nostro ospite. Dovremmo avere in linea Giovanni Tedesco. Buongiorno Giovanni, ci sei? No, non è ancora in linea Giovanni Tedesco che è l'ospite di oggi, della puntata odierna di Calcio e Caffè. Giovanni Tedesco, ovviamente, indimenticato è ex giocatore del Palermo e attualmente allenatore del Birkirkara nella Premier League Maltese, con il quale parleremo della partita di ieri e non solo, ma anche dell'andamento del Palermo nel corso di questo campionato. Un campionato che, come possiamo vedere anche dalle pagine dei quotidiani di oggi, sempre restando per il giornale di Sicilia, è stato colpito dal gavettone di Sarri. Il Palermo è una delle vittime, per così dire, dell'allenatore toscano del Napoli che si sta confermando una delle vere rivelazioni di questo campionato dopo l'esordio dello scorso anno con l'Empoli. Il tecnico toscano è riuscito a dare la propria impronta di gioco anche ad una big come il Napoli e sta puntando dritto verso le posizioni di alta classifica. Passiamo dalle pagine del giornale di Sicilia, torniamo ai quotidiani sportivi nazionali, torniamo alle cronache dedicate ai quotidiani sportivi nazionali alla sfida tra Napoli e Palermo. Passiamo alla Gazzetta dello Sport che titola Timbro Pipita vince il Napoli, Festival dei Pali e il Palermo resta spettatore. Di questa partita non solo l'abbiamo detto, ne parliamo con Giovanni Tedesco. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora Giovanni, ieri non si è visto un Palermo brillantissimo, però c'è ancora la stella di Franco Vasquez che continua a trascinare, a essere l'unica vera forza trascinante di questo Palermo. Come vedi in questo momento il trequartista italo-argentino? Io sinceramente ho visto poco della partita di ieri sera, ho visto Palermo-Incer, ho visto una squadra in saluto, una squadra che sta per l'intronta dell'allenatore, il lavoro di Giacchini è fantastico, e in più la qualità di questi giocatori è veramente forte, però del match di ieri sera ho semplicemente letto i commenti e da questo. Gianni, per questo inizio di campionato, non ovviamente soltanto per la partita di ieri, secondo te chi è il migliore del Palermo in questo primo scorcio di stagione? Vabbè, ma è una risposta, è una domanda semplice, è una risposta semplice, è facile, perché comunque è lui quello che determina, è lui quello che crea le situazioni più importanti, lui è il giocatore anche bello da vedere, no? perché riesce ad abbinare la qualità, la quantità, insomma, è una giocatore fantastica, quindi è una risposta semplice di quello che è, è l'uomo in più del Palermo. Aspetta, abbiamo parlato dell'uomo in più, invece, secondo te in questo momento chi è che non ha ancora fatto il salto di qualità e che potrebbe farlo fare a tutta la squadra? Questa è una bella domanda, io non so cosa rispondere, ti dico semplicemente che sia prima di tutto la tipologia palermitana, sono contento che alla guida del Palermo c'è Iacchino, che lo considero un grande uomo, un grande allenatore, quindi alla fine sa è lui quello che deve fare per migliorare il Palermo, quindi, forse aspetto sono tranquillo, poi sai anche la presenza del Presidente, che lui è anche uno ambizioso, uno che non si sta mai a perdere, e se c'è da intervenire anche a gennaio, sicuramente la società non si tirerà indietro. Giovanni, restando sul campo, c'è Girardino che piano piano sta ritrovando la forma fisica e sta ingranando, come lo vedi in questo momento, l'attaccante del Palermo. Girardino, tornando sempre all'ultima partita che ho visto contro l'Inter, anche in quella situazione ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ha tenuto palla, ha fatto reparti da solo, ha fatto gol nelle occasioni, in quello che lui è più bravo, a far si trovare pronto in quelle situazioni. Sicuramente è un giocatore importante che sarà utilissimo al Palermo. Perfetto, Giovanni. Prima di salutarci, un enorme in bocca al lupo. Sappiamo che col Birkirkara dovrai affrontare a breve una partita molto importante contro una partita che può valere la vetta della classifica. Siete a tre punti dalla testa della classifica, se non sbaglio, dunque, primo in bocca al lupo e secondo come arrivate a questa sfida? È una partita importante contro una squadra ancora organizzata che ha subito pochi gol, però noi, insomma, veniamo da, se non sbaglio, da quattro vittorie e il contegutivo è un pareggio contro Li Bernese che sono i campioni di Malta, quindi siamo in salute, poi inutile nascondere, noi abbiamo comunque un giocatore che nonostante i 36 anni e fa comunque sempre la differenza, parliamo di Fabrizio, di Fabrizio Miccoli, quindi spero, come il Palermo, che sia basket, io spero il Miccoli che riesca un po' a risolvere e a farci vincere questa partita che per noi è fondamentale. Ecco, mi hai anticipato la domanda, stavo appunto per chiederti, Fabrizio Miccoli, come sta procedendo il suo campionato, come si è integrato in un campionato totalmente diverso a quelli a cui era abituato. Una cosa ci tengo a dirlo che sicuramente non è la Serie A italiana, però il livello del calcio maltese è alzato, lo dimostra comunque i risultati della nazionale che abbiamo visto contro l'Italia ha perso solamente per una zero, con la Croazia ha perso una zero, insomma i risultati anche delle squadre, il Bernese ha battuto il Maccabi Haifa in centro, noi siamo riusciti a battere il West Ham, quindi il livello è alzato perché poi hanno aperto gli stranieri, possono giocare addirittura otto stranieri su undici in campo, quindi il livello, come detto prima, è alzato. Lui è arrivato con grandissima umiltà a Marta, sta bene fisicamente, ha fatto dall'inizio dell'Europa League che ad oggi ha fatto nove gol e tredici assist, se non sbaglio, ripeto, ma la cosa che mi ha meravigliato è l'umiltà che è arrivato qui e si è messo a disposizione di questo ambiente, di questo calcio. Perfetto Giovanni, noi ti ringraziamo per questo intervento, un grande in bocca al lupo a te, a Fabrizio Miccoli per tutto il campionato con il Birkir Cara. Ora noi passiamo alle altre pagine dei giornali, continuiamo con la nostra rassegna stampa, eravamo rimasti alla Gazzetta dello Sport, Timbro, Pipita, vince il Napoli, Festival dei Pali e il Palermo resta spettatore. Una volta tanto, i pali sono stati colpiti non dal Palermo ma dall'avversario, dal Napoli anche se non sono stati benevoli per il rosa dato il risultato 3-0. Andiamo a leggere anche le pagelle della Gazzetta dello Sport di Alfitano. Napoli 7, Palermo 5, dunque Palermo nel complesso insufficiente. Nel Napoli migliore in campo ovviamente Higuain con un 8 in pagella segna il gol che sblocca la partita, colpisce un palo e infiamma il San Paolo e si conferma il migliore attaccante della Serie A per il tecnico Sarri invece 7 in pagella. Nel Palermo migliore in campo è l'unico, uno dei pochi con la sufficienza piena è Stefano Sorrentino 6,5 mentre l'altro sufficiente Vasquez con 6 al tecnico Iachini 5 in pagella si è roccato nella propria metà a campo rinunciando da subito a giocarsi la partita contro questo Napoli. Ci sarebbe voluto più coraggio commenta Malfitano della Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle. Dalle pagelle della Gazzetta passiamo ovviamente alla cronaca della partita e soprattutto una curiosità su quella che è stata la partita disputata da Driss Mertens ennesima partita per il folletto belga del Napoli in cui si è rivelato decisivo partendo dalla panchina altro che dodicesimo Driss panchina scomoda un commento anche su quelle che sono state le lamentele e le sultanze rabbiosa dell'attaccante belga e le lamentele di Lorenzo Insigne al momento della sostituzione che hanno svelato un malcelato nervosismo all'interno del Napoli nonostante una situazione di classifica e di gioco assolutamente positiva il mio nome è Annaware recitare mi permette di esplorare di cambiare sono attratta da quello che mi sorprende come quest'auto è un cambiamento totale nuova Hyundai Tucson change is good tua 19.450 euro e con Hyundai iPlus a 290 euro al mese in tutti gli showroom Hyundai Ampia scelta di occhiali da vista e da sole lenti a contatto e accessori Teleottica Carla venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità siamo a Cinisi in corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78 telefono 091 86 65 661 Teleottica Carla ci prendiamo cura del vostro sguardo Passa a Team ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita negozi Team Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3 Barra G Cambiando pagina restando sempre sulla Gazzetta dello Sport andiamo nelle pagine siciliane brutta copia Palermo si doveva far di più questo il commento di Giuseppe Iachini nel dopo partita nei primi 45 minuti bisognava gestire il possesso palla nella ripresa poco incisivi nell'ultimo passaggio questo il rammarico di Giuseppe Iachini tutta colpa di Guain inizia l'articolo di Gaetano Imparato l'inviato della Gazzetta dello Sport a Napoli nel primo tempo siamo andati male meglio nella ripresa il possesso palla non ci è riuscito come volevamo in 6-7 occasioni abbiamo sbagliato a ripartire questo il rammarico principale di Giuseppe Iachini al termine della sfida dello stadio San Paolo di Napoli e dalla Gazzetta dello Sport passiamo invece alla cronaca e alle pagelle del Corriere dello Sport Iguain Mertens Napoli inarrestabile ovviamente titolo celebrativo di quella che è la squadra che al momento è la principale antagonista della Roma prima in classifica leggiamo le pagelle molto velocemente per il Napoli 7 e mezza Iguain migliori in campo 7 anche per Giorginio Albiol Mertens e l'allenatore Sarri nel Palermo 7 a Sorrentino migliori in campo con Rispoli 6 e mezzo subito dopo e gli unici sopra la sufficienza oltre loro due sono Angelkovic e Vasquez che chiudono la loro partita con 6 allenatore Iachini voto 5 per quanto riguarda la partita ai raggizi invece vediamo la chiave tattica della sfida del Napoli della vittoria del Napoli pur prendendo la partita di petto il Napoli sceglie ritmi bassi accelera ma non si sbilancia mentre per il Palermo quasi non la gioca questo il commento impietoso del Corriere dello Sport sulla sfida disputata ieri sera dal Palermo sul campo del San Paolo di Napoli restiamo sempre tra le pagine del Corriere dello Sport Sorrentino è una garanzia Gonzales in affanno per quanto riguarda le pagelle sempre le pagelle del Corriere dello Sport Sorrentino abbiamo detto 7 Gonzales in affanno quindi Gonzales peggiore in campo per il Corriere dello Sport insieme a Struna Maresca e Brugman tutti 5 in pagelle ovviamente anche Iachini come già detto quindi Palermo che non ha convinto nella sfida del turno infrasettimanale di campionato per quanto riguarda sempre il Corriere dello Sport invece nelle pagine della regionale Sicilia Calabria Iachini senza gol a Napoli non ti salvi ovviamente il commento del tecnico Palermo troppo ingenuo invece un complimento per Vasquez presto finirà in un top club ovviamente Vasquez inseguito alle big della Serie A nella scorsa estate anche da Napoli e poi in taglio basso troviamo anche un trafiletto sulla qualificazione in Coppa Italia della primavera a Rosanero Cassini regala la qualificazione alla primavera 1-0 del Palermo contro il Frosinone decide una rete su calcio di rigore all'87 dell'attaccante brasiliano per quanto riguarda il mercato inoltre sempre sulla stessa pagina del Corriere dello Sport gli spuntano Jorgensen e Valog la priorità è un attaccante nel mirino sempre trotta dell'Avellino con questa è l'ultima parte del Corriere dello Sport che andiamo a analizzare e con questa notizia di mercato si chiude anche la puntata odierna di Calcio e Caffè l'appuntamento è per domani mattina stesso orario si inizierà a pensare subito al prossimo impegno di campionato lunedì in casa contro l'Empoli una buona giornata a tutti voi e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.